D'Ambrosio, Margheret, Palma, altri? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge, siamo al... 7.60 a Sarro, c'è l'invito a ritiro, prego. Grazie, Presidente. Allora, per il 7.60 ed anche per il successivo 7.61, nell'accogliere l'invito a ritiro e quindi a tradurre i due emendamenti in ordini del giorno, desideravo anche puntualizzare che... Credo che l'invito per l'ordine del giorno fosse sul successivo, sul 7.61 specificamente. Lo presenterò anche per il 7.60, ritirandolo chiaramente, e precisando che il rischio che si voleva scongiurare attraverso queste puntualizzazioni contenute in entrambi gli emendamenti e che tutta la complessa tematica della inesigibilità venga ribaltata puramente e semplicemente sulla tariffa, senza la fissazione né di limiti per quanto riguarda il riconoscimento delle posizioni di inesigibilità meritevole di copertura, né per quanto riguarda i criteri attraverso i quali spalmare questo onere sulla platea complessiva degli utenti. La ringrazio. A questo punto quindi si intendono ritirati il 7.60 e il 7.61. Passiamo al 7.54, Segoni, contraria Commissione e Governo, favorevole relatore Lega Nord, contraria Commissione e bilancio, votazione aperta. Carlo Giordano, Donati, Tidei, altri? La votazione è chiusa. La Camera respinge. Siamo al 7.56, Zaratti, contraria Commissione e Governo, si rimette all'Aula della Lega Nord, contraria Commissione e bilancio, la votazione aperta. Grazie. Grazie.